Mimetismo La mano di chi scrive è quieta oggi, se leggere e scrivere serve essenzialmente a capire. Un fare niente mi riempie di pace vegetale. Sono come inattesa, sono un animale che ozzi, sono il panorama che si perde all'orizzonte e il gabbiano che in volo lo solga. E così, pacificato e illeso, ancora in colme, mi immergo nel mare, portando il mio colore bianco come bandiera. Niente altro che uno stare quieti, inattesa. Niente altro che questo, qui ed ora. Grazie. 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 Grazie.